Cinque ragazzini minorenni, due italiani e tre di origine straniera, sono stati denunciati per bullismo dalla polizia locale di Arzignano alla procura del tribunale dei minori di Venezia. Sarebbero loro i responsabili di una aggressione avvenuta l'8 settembre scorso ai danni di un minorenne per derubarlo al parco dello sport. La vittima avrebbe ricevuto una violenta serie di calce e pugni, tanto da essere poi condotta al pronto soccorso per non aver versato agli aggressori una modesta somma di denaro. La baby gang, composta da cinque ragazzini di età compresa tra i 13 e i 17 anni, tutti residenti ad Arzignano, non sarebbe nuova a fatti del genere. Sulle loro tracce si sono immediatamente messi gli agenti di polizia locale che hanno raccolto numerose testimonianze. Fondamentali anche le riprese ottenute dal sistema di video sorveglianza comunale. I fatti raccontati dimostrano appunto l'efficacia di questo sistema di monitoraggio e di ricerca e di indagine. Quindi ai ragazzi e ai genitori vogliamo lanciare un messaggio positivo, un messaggio finalizzato a non aver paura ma a denunciare alla polizia locale questi odiosi fenomeni. Perché? Dovete sapere che abbiamo i mezzi, gli strumenti e la capacità per individuare uno a uno tutti i bulletti di quartiere. L'episodio delle violenze al parco dello sport si è concluso grazie al pronto intervento della nostra polizia locale. Per cui l'invito che faccio è ai ragazzi, ai ragazzini che subiscono delle propotenze da parte di altri ragazzini di parlarne con i genitori e i quali a loro volta possono trovano tutta la disponibilità appunto della nostra polizia locale ma così pure delle istituzioni in modo che fatti come questi non accadano o non accadano più.